Grazie, grazie Presidente. Io voglio intanto ringraziare il collega Dambaschi per il suo lavoro su un testo che come lui stesso ha detto tratta un argomento sensibile, cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel diritto penale ed è un testo che ha delle implicazioni naturalmente anche di ordine etico, di ordine socio-antropologico oltre che giuridico. Credo che bisogna fare una distinzione fra l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle autorità di polizia e l'utilizzo invece nel sistema giudiziario penale, ambiti sicuramente congiunti, sicuramente complementari eppure diversi. I colleghi che mi hanno preceduto hanno già parlato dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in particolare da parte delle forze di polizia in funzione di prevenzione dei reati, cosa che deve essere naturalmente fatta nel quadro del rigoroso rispetto delle garanzie e delle tutele procedurali previste dallo Stato di diritto e che comunque ha già dato dei risultati positivi soprattutto in termini di prevenzione almeno di alcuni tipi di reati. Occorre però anche in questo caso una giusta prudenza, a mio avviso occorre quindi richiamare e se del caso anche rafforzare la cornice legale all'interno della quale tale attività di prevenzione possono svolgersi, ad esempio fornendo garanzie relativamente al rispetto dell'applicazione del regolamento generale per la protezione dei dati. Altro discorso però è ancora più delicato è l'utilizzo dei cosiddetti automatic decision systems, cioè gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale utilizzati addirittura anche a fini decisionali. Delle esperienze ci sono state in ambito europeo ma soprattutto con riferimento al settore del diritto privato, con riferimento alle questioni civili. Ma ripeto, ancora più delicato è sicuramente l'utilizzo di questi sistemi nell'ambito delle vertenze penali, una prospettiva che non può e non deve certamente andare in contrasto con quello che potremmo definire l'approccio umano-centrico che è stato proposto dalla Commissione e che viene ripetutamente ribadito. Certamente condivisibili le potenzialità dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, quali la digitalizzazione, l'efficienza, la celerità e il contenimento dei costi della giustizia, che però non possono portare to cure a degli automatismi deterministici che possono potenzialmente essere discriminatori e che non possono certo e non devono certo portare alla sostituzione del giudice uomo con il giudice macchina. Sono strumenti importanti le potenzialità previste dall'intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia penale, ma devono rimanere uno strumento a servizio dell'uomo. Pensiamo alle banche dati, pensiamo alle analisi statistiche, che devono assistere alla decisione del giudice, devono essere a supporto della decisione del giudice. Io credo che solo un giudice uomo possa assumere le decisioni nell'ambito del settore della giustizia penale. Io sono magistrato, funzione che ho svolto per tantissimi anni e so bene per esempio la difficoltà di valutare i cosiddetti elementi indiziari nel processo indiziario, quegli elementi che devono avere determinate caratteristiche, gravi, precisi, concordanti, per poter portare attraverso una valutazione attenta, fondata su capacità, fondata su competenze, fondata sulla sensibilità del giudice, devono poter portare ad una decisione che vada oltre il ragionevole dubbio. Quindi una decisione che può e deve essere affidata soltanto al giudice uomo e che non può essere adottata sulla base di risposte fornite da una logica binaria o addirittura una logica probabilistica. Credo quindi ancora una volta che occorra grande prudenza. E concludo con un riferimento all'articolo 22 del Regolamento generale della protezione dei dati che stabilisce, nonostante precise eccezioni, che la persona interessata ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. E credo quindi che nel parere si potrebbero richiamare i principi sanciti dal Consiglio d'Europa nella Carta Etica Europea per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti adottata nel 2018, da porre quasi direi come dei binari entro i quali stabilire il potenziale utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario penale, il principio del rispetto dei diritti fondamentali, il principio della non discriminazione, il principio di qualità e sicurezza, il principio di trasparenza, imparzialità e correttezza, il principio di garanzia del controllo umano. Io quindi concludo ringraziando davvero il collega Dambaschi per il lavoro svolto su un tema così delicato e sono sicuro che il suo lavoro e il lavoro che tutti faremo in questa Commissione potrà portare importanti elementi di riflessione che personalmente potrò proporre in Commissione Libia competente per il merito. Grazie